ciao bentornato al programma tv di oggi con notizie come chanel totti a soli 16 anni ha già catturato l'attenzione del mondo dei social media e del gossip italiano non solo per essere la figlia di ilary blasi e francesco totti ma anche per il suo stile di vita lussuoso e le sue scelte audaci recentemente ha fatto parlare di sé per un regalo particolarmente sontuoso al suo fidanzato christian babalus una audi r8 5 2 v10 rwd un'auto sportiva che incarna potenza ed eleganza con una carrozzeria in tonalità verde tiffany che non passa certo inosservata nonostante l'apparente grandiosità del gesto c'è un dettaglio che molti non conoscono chanel non ha effettivamente acquistato l'auto il cui valore supera i 150 mila euro ma ha optato per un noleggio di 24 ore grazie all'azienda romana sky limit questa scelta ha suscitato reazioni miste da un lato l'ammirazione per la capacità di chanel totti di sorprendere e deliziare dall'altro critiche per la natura effimera e l'ostentazione del regalo chanel totti il regalo di lusso per il fidanzato christian audi r8 5 2 v10 rwd in regalo per essere guidata per l'arco di una sola giornata un lusso per pochi al costo stratosferico una pazzia gradita per chi come babalus è un appassionato di auto sportive il modello in questione è a due posti decappottabile full option a cui si aggiunge un dettaglio speciale una versione particolare garantita da una sfumatura originale il verde tiffany il ragazzo è rimasto senza parole di fronte a questo regalo di lusso di chanel che nonostante la giovane età mostra una predilezione per il lusso ed uno stile di vita che si discosta notevolmente da quello delle sue coetanee chanel totti regalo per il fidanzato l a presenza sui social network di chanel totti è forte con un seguito considerevole che segue ogni suo passo tra ammirazione e critiche questo episodio del regalo al fidanzato è solo l'ultimo di una serie di eventi che la vedono protagonista nel mondo del gossip l'adolescente ha fatto parlare di sé per il regalo al fidanzato che ha una grande passione per le auto di lusso la secondogenita di totti ha voluto fargli un regalo speciale scatenando le critiche del web che la bersagliano per come gestisce la propria immagine pubblica esibendo lusso e sfrenatezza chanel totti come molti giovani della sua età si trova a navigare in un mondo dove l'apparenza e il lusso spesso prevalgono ma dove è anche importante mantenere un certo grado di autenticità e responsabilità iscriviti al canale